Ma Lanzano bravissimo quanto hai fatto? 4 a 1 Con quale mazzo? Un mazzo di merda, un misto di Haydon, Mcknight e tutta cosa Chi hai battuto? 2 hero, un salamagna e un... come si chiama quel mazzo danger? Una light Hai perso solo contro? Ho perso contro Cangino! Che è arrivato a primo? Pendo come di merda E vabbè vediamo questa bellissima lista E vabbè 3 del bellissima lista e carta fortissima Non la cambierei mai per nessuno E' un bell'uomo E' Dante travestito da incantatore Ok Gli aperto Mcknight 2, 2 e mezzo Dante è a W quindi se lo vedi in mano fa schifo Poi ho giocato 3 pancatepo Tanto per andare secondo Ed essere un tumore Se vado prima quest'anzo lo perde Non può fare niente C'è meciabba passo E non va bene Poi ho giocato 3 corvi Autowind contro salamagna 3 hash fortissime 2 veiger perchè sono povero Certo Dove sono in barri Ah Poi ho giocato altri 3 raced E due invocation non 3 perchè quando l'avete in mano fa schifissimo Che faccio Non gioco 2 perchè gioco i link che te la fatti a dare Ok 2 instant e non 3 perchè la trovo pesante come carta E due bellissime E due bellissime called by the greats Stronzo di un called by the greats 3 mind control che scubi mosti ci fai link e gg Si E tre mono bellissime Si può stare Eh se fai seconda e forte questo è un'altra raster Con questo sono 7 raster E non ho mai visto una E questo vabbè solo questa fa schifissimo Una più forte Infinito temporale Infermanza infinita Infinita in permanence Dico Ogni lingua diversa E' l'ultima carta che penso che nelle prossime settimane la cambierò perchè mi hai fatto troppo schifo Perchè non ti permette di fare l'abatto che il mazzo è fatto per offricappare Quindi anche se gli levi tutte le risorse fai la stessa cosa ma ci abbassi Fa partire la combo Fa partire la combo E poi prendi o ti cappi Questo era il main Vabbè l'extra è tutto ciò che puoi cavare di link 2 Reparto Nightmare Ho giocato solo una kagari perchè ho un droni Non ho da engage perchè probabilmente giocherai engage Un decode talker Undercock taker Vabbè io ho cambiato nome Un trispaena contro i mazzi trapposi Anche se non è in corcetta nemmeno mezzo Perchè il gioco solo io Un saruja per pescare mai cavato E questo sempre cavato per fare tutte le tk Cretino salvato Un kaliga che mi ha fatto vincere una partita contro Hiro Perchè puoi fare un solo effetto per turno E' protetto da Lister Un 2.88 Due pulcatrio Due matchup E un target distant Di side Ho giocato Carte di merda Tre lancea Contro Orkust Contro Hiro E' stata pure post Contro mazzi trappola E' sky striker Quando lo incontro Perchè io vado secondo Quei sette 10 miliardi Dico Donkosek E' sparito pure il deck di V Tre twin Sempre per le set E poi ho giocato Due crackdown E due dark and be only one Per quando mi fanno andare primo Perchè sennò il mazzo perde E questa ringrazio Restivo Perchè mi ha fatto vincere tutte e due le partite Per quest'anno Ringraziamo Che gioco a due ho visto Tutte e due case Ti dobbiamo ringraziare Restivo perchè mi ha fatto vincere E' l'anziiiino I'avMA E' l'anziiiino Questa è l'anziiino Il sottotit Aus No